ciao oggi voglio parlarti di un prodotto si chiama porta pranzo leopardato leopardato ovviamente per la fantasia è un porta pranzo molto comodo dove poter riporre i nostri pranzi freddi ma non solo anche le merende piuttosto che come beauty case grazie alla mia cliente privilegiata silvia che si è offerta di fare questo video visto che io non ce l'ho giusto per farvi vedere la capienza come vedete non è affatto piccolo ci stanno tante cose e anche un divisorio per poter contenere tante cose in questo caso sono tutti i prodotti confezionati però ad esempio potreste mettere che ne so da una parte la pasta e dall'altra delle verdure come vedete si apre e chiude molto molto facilmente quindi è anche ottimo per i bambini ed è in promozione fino al 18 di giugno